Allora voi siete un po' di sorda? Te hai volto il babbo? Mi pensavo che era, zia! Vieni, vieni, vieni! Una bella gara, bella perché te la sei inventata perché te hai volto il babbo? Prendi, prendi, stessi tutto il pacchetto. Prendi, 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 prendi... Ma non ti mangio mica! Una! Oh, che onore per il nostro circolo! Abbiamo il grande poeta... Salvatore... Salvatore... Salvatore, salvatutto! Ma già non sono intrecetto! Sì, 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 salvatore! Anche questa sera, invece, devo per te, per questa bella gente qualche qui sia che ho scritto io! La prima poesia che vi reciterò si intitola Il vaso. L'anzuale! Ho comprato un vaso di urano. Che strano! Che strano! Ho comprato un vaso di corugio. Che strusco! Che strano! Che strano! Voi mi vedete? Che strano! Che strano! Che strano! tutto sguagliariato e sguagliariato in francese, ha un chè, ecco, ha un chè, ma dopo questa esposizione di gioia saldiato tanto avvengono di salire, ma siccome io sono di mare un'artista reciterò per voi un'altra poesia, se mai ricordo. Non voglio stare, mi state venendo in francese, mi ha detto che il mio marito è morto, ma no, non mi dice male, io la volevo bella a poco, si chiamava a poco, a poco, si chiamava non mi dire l'averrò, si chiamava a poco, mi shothe la volevo, 3 euro proprio. Tanto non mi invitiamo a guardare, farò un'テon in suudurbrello, ma coveredo quello, ah no... Nooo! 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 Mi ha realizzato anche il punto! E' un superiore di casa! E' un'ultima cosa che mi disse prima di morire! Ma l'ha... Ma l'ha fungita! Credo! Ma l'ha fungita! Credo! Lì! Lì! Andiamo a fare una bella passeggiata! E' un piccolo canale! E' un piccolo canale! Adesso! Papà, ma sei scemo! E' di me la bocca! E' di me la impressione! Posso? 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 La bocca non ci credeva più! Un bagli steen! Un giallo! Posso? Nooo! Guarda questa cosa! E' un piccolo canale! E' un piccolo canale! E' un piccolo canale! E' un piccolo canale! La bene, come! Per la vera! Beh! E' scritto! Come la passiva! Molto triste! E' un amore! E' un momento in iglese, ma sto dicendo. Si parte con gli arti tesi e i parenti hanno le protesi. Chi fu, chi fa, chi fò, ognuno ci dovrebbe portare. E' l'acqua. Vabbè la mamma, la respira a tutti, buona sera a tutti. E' forte, troppo forte.